Lei è una delle bellissime e delle amatissime del piccolo schermo, Alessia Marcuzzi è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici più amate dagli italiani Simpatica, professionale e ovviamente bella, le sue gambe chilometriche le hanno permesso, infatti, di ripagliarsi il ruolo di rilievo nel mondo della moda Tanti brand che la scelgono come testimoniale e lei stessa, tramite il tuo blog, si propone come una vera e propria influencer pronta a dare consigli di stile e nuove tendenze e, solo su Instagram, vanta la bellezza di 2,5 milioni di follower In un'intervista rilasciata a Corriere della Sera, Alessia ha raccontato i segreti del suo look, mi piacciono le minibonne, come gli shorts Se una donna della mia età si sente bene in pantaloncini, perché no? Sharon Stone a 50 anni si può permettere di mostrare le gambe Certo, in video devo essere sexy, magari indossando paellettes che non metterei nella vita privata Ma sul palco si può giocare a fare le gambe La minibomma nella quotidianità funziona se il top non è scollato, altrimenti si crea un impatto troppo forte, magari associandola a una calza rock, a un tacco e aggiungendo sopra un maglione over di taglio maschile Con un fisco come il suo è possibile permettersi in iso di ogni tipo, anche quelle più azzardate ma, come ci tiene a specificare la nota conduttrice, nonché super mamma, la sua non è una vita fatta di rinunce a tavola, sono una fautrice della pasta a cena, tutte le sere mi permette di dormire bene I figli mi hanno cambiato e dico a tutti di fare figli perché dopo dimagrisci, almeno a me è successo così Ebbene sì, mia e Tommaso sono la sua palestra ma non solo, lei è una mamma sì giocosa, ironica e divertente ma, quando c'è da alzare la voce, di certo non si tira indietro, sono una mamma mediterranea, impongo regole Per il resto non ho idea di come sarò tra dieci anni Potrei avviare un nuovo progetto di punto in bianco, chi lo sa, ho uno spirito pulietrico